nostro ospite che il lunedì e il venerdì a partire dalle 10 e 10 ci dice la sua Danilo Toninelli ben trovato Toninelli oh eccolo qui eccolo qui oh bene lui c'è io ti sono spero che ci sia anche l'audio si c'è anche l'audio perfetto eccoci allora bypassiamo mettiamo da parte per un attimo i venti di guerra così ci rilassiamo anche un po non so se sei d'accordo non so se sei d'accordo Danilo all'accordo esatto invece io approfitto della tua presenza per farti qualche domandina un po intima intima ovviamente dal punto di vista politico perché Toninelli è stato uno dei protagonisti del governo lo cita spesso anche lui c'è Toninelli in video ecco mettetemelo sempre voi non tenete lo dico alla regia video teneteci sempre insieme tutti insieme Danilo Toninelli è stato uno dei protagonisti del governo il conte 1 era giusto esattamente e quindi devo dire che immagino tu abbia conosciuto da vicino Matteo Salvini ecco Matteo Salvini sta vivendo un periodo particolare perché la Lega è in crisi di voti e ovviamente quando è giusto che sia un segretario c'è un partito in crisi rischia anche il suo ruolo di leadership allora che ci puoi raccontare un po un Salvini politico ovviamente non privato che magari diciamo conosciamo meno intanto qual era il rapporto proprio anche a livello proprio di contatto diretto con con voi col Movimento 5 Stelle che tipo di approccio lui aveva nei vostri confronti innanzitutto Salvini che ho conosciuto un Salvini che non guardava negli occhi è un Salvini che alzava lo sguardo quando c'era una telecamera accesa o quando c'era un microfono acceso quando c'era invece un consiglio dei ministri sempre testa bassa china con gli occhi sul telefono quando facevamo altre riunioni più tecniche quindi non consiglio dei ministri che affronti tutti gli argomenti del giorno diciamo e quando affrontavamo invece argomenti specifici anche lì sempre sguardo basso e poi quando interveniva sembrava più o meno lo stesso Salvini di quando andava in televisione molto generalista molto propaganda insomma non raggiungeva mai il punto insomma non non ti risolveva il problema io ti racconto velocemente un episodio che mi è rimasto è scritto anche nel libro in uno degli ultimi comitati interministeriali di programmazione economica sottoscritto insieme ai miei colleghi del ministero riusciamo a sbloccare alcune cose molto interessanti l'autostrada Asticunio che era ferma per 11 anni, la Ragusa Catania che era ferma da 35 anni insomma avevamo fatto un po' di cosette interessanti e in questo comitato interministeriale dove avevo di fronte Conte e Giorgetti lui non aveva praticamente mai detto nulla a un certo punto finisce il comitato, il Cipe si chiamava e io me ne torno al ministero per riprendere a lavorare mi si avvicina la mia segretaria mi dà il telefono mi fa vedere una diretta di Salvini che aveva preso le carte che aveva trovato sulla scrivania del Cipe e aveva lanciato una diretta dove diceva che tutte queste cose fatte erano state fatte grazie a lui e grazie alla Lega quindi per farvi capire come... Beh in parte era anche vero però eh, la fatte anche lui e la Lega In quel caso specifico ti dico di no perché non avevo più sottosegretari In quel caso ti ricorderai che si erano dimessi entrambi per questione di natura giudiziaria sia Siri che l'altro sottosegretario leghista che avevo quindi di fatto non avevano mai partecipato i tavoli tecnici e politici per lo sblocco di queste due autostrade, di questi due grandi cantieri e la cosa che mi fece confermare che il soggetto fosse Salvini era che era uno che non ti affrontava viso a viso, era molto codardo è un finto duro Matteo Salvini perché non ti incrociava mai lo sguardo però dopo quando c'era da fare propaganda prendendosi meriti altrui era il numero uno perché davanti alla telecamera lo sguardo lo alzava tantissimo riguardo invece i rapporti con il Movimento 5 Stelle erano rapporti freddi, pragmatici, di contenuti perché Aveva un buon rapporto con Di Maio o sbaglio anche dal punto di vista personale? No? Non era così come sembrava? Ah ok ok No assolutamente non ho mai visto Ma fate calcolo che l'unico momento conviviale che abbiamo vissuto è stata una cena diciamo in periodo natalizio fatto in un ristorante di Roma Ed era ovviamente la fine il dicembre del 2018 Questo fu l'unico momento diciamo conviviale extra consiglio dei ministri ed extra tavoli tecnici che abbiamo affrontato insieme a lui Vabbè questo guarda poi posso dire una cosa mentre lo raccontavi Secondo me è anche positivo nel senso che poi la politica a volte magari dà un'immagine Come dire i ladri di Pisa Adesso faccio un esempio Non è per i ladri È per dire che diciamo Prima se le dicono Poi stanno tutti insieme In realtà questa Come dire questa separazione Di ruoli Anche questo formalismo che c'era tra voi Secondo me è anche confortante Al punto di vista politico Perché in politica bisogna lavorare per il paese Non ovviamente andare per forza D'accordo A proposito dell'episodio che hai raccontato Ce n'è un altro che a me colpì molto Quando avete presentato in conferenza stampa il reddito di cittadinanza E la legge sulle pensioni Che lui si prese solo il cartello Non prese il cartello del reddito di cittadinanza Ma prese quello diciamo che riguardavano la situazione pensionistica Quella cosa era stata concordata Perché mi sembra che i cartelli vennero distribuiti da Casalino Lui però non prese quello Ne prese un altro Era voi che volevate fregare lui E lui se ne è accorto Come cosa è successo in quel caso Se puoi dirci Allora Alla base bisogna fare una premessa C'era una competizione Politica Personale Di consenso Tra lui e Di Maio Al che io dicevo a Luigi Ma te che cazzo Te ne frega Luigi Di fare questa competizione così Anche massmediatica Lui è andato in quella trasmissione Io vado in questa trasmissione Lui ha fatto la nota stampa Tu fai la nota stampa Attenzione che esce Adesso Salvini con un'agenzia stampa Usciamo prima noi C'era quella competizione Che mi faceva capire Anche se ero dentro Totalmente anima e corpo Nel progetto E nel lavoro E al ministero Che Luigi Era diventato anche lui Un politico Professionista Che guardava tantissimo La tattica E tantissimo All'immagine Lì secondo me Si misero d'accordo Io non c'ero nella decisione Perché non c'ero Non ero presente In quel momento Era al ministero Ma si misero d'accordo Ma sinceramente Da cittadino pragmatico Quali sono Vi dico Ma cosa mi interessa Del fatto che Salvini Abbia preso in mano Il cartello Che ho scritto Quota 101 E noi Quota 101 E reddito di cittadinanza Per me l'importante Era che fossero passati Entrambi Io mi sarei Lanciato dal terrazzo Di Palazzo Chigi Se avessi saputo Che lanciandomi Dall'altro che andare fuori A festeggiare Lanciandomi dal palazzo Di Dal terrazzo di Palazzo Chigi Ci fosse stata Una possibilità Di approvazione In quel momento Io vivevo una grande Concretezza di risultato Sapevo che duravamo poco Sapevo che sarei durato poco Sapevo che dovevo fare il massimo In quel prossimo tempo Che mi rimaneva Interessante Danilo Toninelli Rimane lì Rimanete lì anche voi 50 secondi di pausa Dobbiamo dare la linea Alla regia Poi si torna in diretta Entriamo anche nel merito Di alcune vicende Che riguardano Le infrastrutture italiane Che è un tema Che Toninelli Senta ancora Da ex ministro Neanche un minuto 50 secondi Allora con Danilo Toninelli Lunedì e venerdì A partire dalle 10 10 Su Radio Cusano Campus C'è una domanda Per Toninelli A parte dell'ascoltatore Però La mettiamo un po' In fondo Oggi sul fatto quotidiano A proposito di autostrade Concessioni Il fatto quotidiano Devo dire con onestà giornalistica Ma insomma Se uno fa questo mestiere Dipendentemente dalle posizioni La deve avere Quando trova una buona idea C'è un articolo Che dove c'è scritto Autostrade La riforma di Salvini Può mettere fine al far west Il leghista Pare avere avuto Una buona idea Pedaggi allo Stato E gestione ai privati Ma contratte piccole Rendimenti contenuti E tariffa unica Il modello attuale È stato un disastro Sei d'accordo Con questa idea Con questa proposta? Mi verrebbe voglia Di mandarlo Come a quel paese A pure a lui Ha già mandato A Schlein Perché Ma ragazzi Ma io ho vissuto Tutti quei momenti Voi sapete perfettamente Che ho cercato In tutti i modi Di rendere pubbliche Le autostrade Rendere pubbliche Le autostrade Quanto meno Quelle La cui gestione Con manutenzione Era ordinaria Non la 24 A 25 Roma Pescara Che è tutto un viadotto E' meglio darla ai privati Che ci investono Eccetera eccetera La Milano Torino Che è tutta piatta Perché dobbiamo darla L'abbiamo costruita noi Con i soldi di contribuenti La diamo in concessionario Che ha costo quasi zero In cassa Miliardi di euro Ma mi ha sempre detto Di no ragazzi 2018 e 2019 La battaglia Del Movimento 5 Stelle Per la ripubblicizzazione Delle autostrade Lui mi ha sempre Chiuso la porta in faccia E se oggi Condivido nel merito Quella notizia Che tu hai dato Ma sapendo L'origine Del ragionamento Politico della Lega Merito di essere Mandati a quel paese Tu l'avresti fatto Tu l'avevi proposto Da ministro Ti dico di più Nel luglio L'ultima cosa Che ho fatto Da ministro Con tanto di complimenti A questo punto Falsissimi Di Giorgetti Fu La creazione Di una prima Concessione 100% pubblica La Modena Brennero Nel senso che I dividendi C'era una Destrutturazione giuridica Del contratto Di concessione Stato concessione Scaduta da anni Come tantissime altre Concessioni Per cui i dividendi Si trasformavano Inutili Da reinvestire Per la collettività I concessionari Chi erano Erano Le province I consorsi I comuni Che vertevano Su quella tratta E non c'erano Più Dividendi Che ora Che prima di allora Andavano comunque I comuni Che li utilizzavano Come privati Senza Vincolo di destinazione Sapete che me l'hanno bloccata Era tutto già firmato L'hanno prorogata Non è mai entrato in vigore La concessione È ancora scaduta Da circa 8 anni Oramai 10 anni E roba di questo tipo Perché I soldi Che guadagnavano I comuni Anche amministrati Dalla Lega Erano tanti E belli E quindi Non andava Loro tolta Questa gallina Dalle uova d'oro Quindi È falso Anche se nel merito Corretto Come notizia Che la Lega O il centrodestra Vogliano ripubblicizzare Le autostrade Senti Toninelli Ma non ritieni Che le persone Poi alla fine Capiscano Le tarantelle Di Salvini Perché Lo vediamo Insomma Adesso però Facciamo process No 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 Ma io voglio dire Anche quella Sul ponte Sullo stretto Di Messina Che è una Grande Bagianata Che partirà Sicuramente Ma non arriverà Secondo me Mai a termine E poi abbia Insomma Delle risultanze Anche sui voti Che otterrà la Lega Visto che è rappresentata Da un leader Siffatto Che dici Io dico che sto con Bossi Io dico che Che nonostante Non abbia condiviso Le scelte politiche Prima di secessione Poi di federalismo Di Bossi Avendolo conosciuto Rispetto a Salvini Se li mettiamo in campo Vince 10 a 0 Quindi La risposta Alla tua domanda È già insita In questa In questa cosa qua Fare della politica Un'esclusiva attività Di propaganda Lui è un influencer Lui è un influencer Che non vende borsette Con una fotografia Pubblicata su Instagram Ma con le parole Cerca consenso E col consenso Crea poltrone Potere e denaro Ragazzi Purtroppo non è solo Salvini E qua lo difendo E gli sono anche vicino Perché è un andato Tipico dalla politica Non è unico Io volevo fare Stavo in programmazione Intervista con Salvini Guarda come va a finire E che c'entra No Perché Non c'è la libertà d'opinione Io la difendo Scusa No ma Toninelli Che c'era Un po' di simpatia Da giovane Per la Lega di Bossi Da parte tua Per caso Sì C'era C'era Non l'ho mai votato Io arrivando Dalle case popolari Da situazioni piuttosto complesse Familiari ed economiche Capite bene Che non Non ho seguito Molto la politica Perché 14 anni Ero nei campi a lavorare E E nei capannoni E poi nei cantieri Perché dovevo pagarmi gli studi Detto questo La seguivo Nel senso La percepivo La percepivo L'ignorante Non avevo consapevolezza E quindi la percepivo Come qualche cosa Che potesse Da cittadino Del nord Lombardo Darmi Qualche cosa in più Perché io faticavo Faticando Pensavo Non solo per colpa mia O di miei genitori Ma per colpa di una politica Che non c'ha Noia del nord Considera Quando ho iniziato a studiare Ho aperto gli occhi Ma questa tua condizione Diciamo sociale Verso la sinistra Non ti faceva provare Qualche simpatia Visto che loro Dovrebbero essere i depositari Del riscatto sociale No? Esattamente Ma se tu mi fai andare Con la memoria Ai 16-20 anni 25 Insomma Quale età lì Da adolescente Direi assolutamente Assolutamente No I miei ricordi Mi vanno solo a bossi Vanno a bossi Evidentemente Per la grande capacità comunicativa Che aveva Che è una caratteristica Importante Ma che vale Solo se concretizzi Le parole Di questa capacità comunicativa Pensate Il ragazzo Delle case popolari Alla sinistra Non ci pensava Poco Non ci pensava Per nulla Sono passati 20 anni Nei case popolari Ancora non pensano Alla sinistra Alla sinistra Se facesse un po' Un esamino di coscienza Rispetto a questa Piccola casistica Però Sicuramente Sempre importante Com'è sempre importante Ascoltare Danilo Toninelli Ci sentiamo venerdì Su Radio Cusano Campus Grazie Buon lavoro Grazie Grazie Buon lavoro a voi